Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sbaglieremo insieme il libro di Sbrizer Che magnificità! E' bellissimo, il libro fumetto che somiglia al libro di Lion, le storie del mistero Dato che non vi voglio spoilerare tante cose Leggo solo una pagina Aaaaaah! No, 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 deve essere un incubo Resisti dolcetta, resist... Sbrizer, aiuto! Guardate quanto è bello ragazzi Io prima ho caricato il video del libro di Sio e di questo libro E oggi faremo vedere questo libro A fumetto che è bellissimo Una storia Minecraft non è ufficiale Questo è Sbrizer che si chiede chi è Sbrizer Questo youtuber qua con questo uccello che non sa perché c'è Se vedete bene qua, ve lo metto a fuoco Attimo come si mette a fuoco Ecco messo a fuoco, qua c'è la foresta E qua c'è scritto Siete pronti per la più incredibile avventura cubica a fumetti che sia mai stata raccontata Allora cosa aspettate? Chiamate a raccolta il vostro coraggio e unitevi allo stormo anche voi Da 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 da